L'unico limite, Steph, è la tua fantasia, quindi... Che fortuna! Metti là! Che fortuna! Stavo parlando per l'altro! Uh! Uh! Non mi avrai mai! Non c'è grado! Non mi avrai mai! No! Tre volte rimbalzato? Finalmente uscite alla malità parco giochi! Stiamo registrando subito il primo video! E direi che partiamo dal farvi vedere un po' la modalità Farvi vedere un po' di cose che si possono fare particolari Assolutamente sì! E poi, ragazzi, inizieranno delle cose epiche che faremo Guardate, non avete idea di cosa tutto faremo Io dico, Fede, che sono già sceso su due lama Ah, bello! Uno e due Quelli vedi così vicinissimi, fantastico! Perché ce ne sono cento nella mappa, ragazzi Quindi potete già immaginare che casino può essere Cioè, si può trovare davvero di tutto Poi hai provato a dare un po' di colpi per vedere i materiali che prendi? Sì, ho visto! Io adesso sono in un palazzo, sto distruggendo tutto Sto prendendo ceste, sto guardando E' fantastico! Allora Cioè, ogni cosa che prendi è molto di più del normale Guarda, ho 200 di legna Guarda un albero Ta, 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 ta Ok, questo un singolo albero Sono a 730 Cioè, fai due alberi e si apposto Sì, ma letteralmente Totalmente Ok, ci apriamo anche un altro lama Ovviamente, raga, primi obiettivi Trovare un sacco di roba divertente Bouncer, granate che lanciano Quindi granate di impulso Trovare un po' di tutto Così facciamo cose folli Assolutamente Sono gli oggetti più importanti da trovare E quindi ne sto già cercando Poi adesso mi cerco qualche arma Perché comunque io e Fere ci possiamo sparare Infatti, se vedete Nella mappa noi non ci vediamo Io in questo momento non posso sapere dove Fere Non ne ho minimamente idea Quella è la cosa divertente Io infatti qualche arma la sto già prendendo Ecco Ecco E mi cosa sto aspettando te Sai cosa succede quando schiatti però? Che ritorni in vita? Esatto E sai come? Dall'alto Dal cielo Davvero? Sì, sì, è come se riscendi Ah, strabello Quindi perdi tutto l'equipaggiamento Riscendi e decidi di riterrare dove vuoi Ah, però perdi tutto? Eh sì Ok No, beh, giusto, dai, giusto Altrimenti sarebbe troppo facile Tornare già equipaggiati Decisamente Non mi ha ancora chiesto cosa dobbiamo fare Infatti, Steph, dimmi un po' Allora, praticamente creiamo una zona Ok Ok Fatta piena di trappole Fatta a scacchiera Quindi una trappola sì, una no Una trappola sì, una no Ok Ok Abbastanza grande Mettiamo dei bounce all'intorno Ci equipaggiamo un sacco di granate all'impulso Ok Ok E giochiamo a lanciarci sulle trappole Eh, vabbè, bellissimo Una roba abbastanza cattiva Eh sì Io ti dico, ho già tre trappole Perché ho aperto comunque due lama Quindi ne ho già trovato tante Adesso continuerò ad andare in giro a cercarne Mi sto anche riempiendo l'uscillo In questo modo mi puoi ammazzare un po' Meno facilmente Ah, io lo shield ce l'ho già pieno Ce l'ho già pensato Ho qualche arma E adesso sto cercando trappole pure io Ma non ho ancora trovato Eh, mi dispiace Ma adesso sto andando anch'io fuori da Pinnacoli Faccio tutto Alleluia Non rompere Alleluia Io prima di tutto mi sono equipaggiata Una bella sfida deve essere fatta con un bel equipaggiamento Eh, ma guarda che abbiamo stato un'ora Non ne abbiamo quattordici Eh, certo, vabbè, ma un'ora è tantissima Non stai a rompere qui Lo sai che è aumentata la crepa? Non mi ricordo adesso che lato Vedi il cielo con la grande Se segui un punto Eh, vabbè C'è una nuova crepa Sì, ho visto Ma anche dall'altra parte A me sembra che si si espansa molto Sì, però quella crepa lì in più nuova È proprio cattiva Quella roba grossa Si sta spacca tutto Si sta spacca tutto Infatti stanno comprando nuovi portali Ragazzi, un casino incredibile Noi non facciamo i video su quelle robe Perché si aggiorna costantemente tutto Dovremmo fare 40 video di Fortnite alla settimana Per parlarvene Però in ogni caso Si sta evolvendo tutto Ed è interessante Io inizio a sperare davvero tanto In una stagione indietro nel tempo Perché sarebbe una figata pazzesca Sì, io non trovo manco un lama Cioè, sto girando Allora, tu verso che ora sei andata? Cioè, verso che direzione sei andata? Io sono verso il cratere adesso Ok, quindi sei andato dall'altra parte Io sto andando verso lo stadio Quindi no Zero Non è neanche una zona che hai controllato tu No, no, no Sei soltanto tanto sfigata, Fere Come sempre Come cazzo? Io sono quasi arrivato alle miniere Ma anch'io ci sono Era attaccata Ok Però sto controllando dall'alto Dall'alto se becco qualche altro lama Invece Trovate un altro Oh, non mi sembra A me Cioè, mi schivano Che ti devo dire Ma non è vero Sì, 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 è verissimo Allora Vai Vediamo un pochettino Altre trappole Granate puzzolenti Un e nessuno Io sono 21 trappole Ok Arriva da te Arrivare a te L'inventario 6 e 3 Però ho due campfire Eh, dai Sei stata comunque brava Grazie Più o meno Grazie E dove sei? A prendere il lama vicino a condotti Eh, sinistra e destra Destra di condotti più o meno Eh, ho visto anche un altro lama Lo ignorerò Eh, oddio Ok Un altro Chuck Chuck Che c'è? Sono vicino a te Seguimi Mi vedi? Sì Ok, seguimi Chi hai visto? Guarda, guarda, guarda Vieni No, non ti sto capendo Lo so, lo so, lo so Ma adesso lo capisci Non so che cosa mi devi far vedere Guarda Che stai facendo fare Sono i due amichetti Vabbè Eh? Che bellissimo C'è un altro anche alla sinistra Guarda Eh, vabbè Vai, prende quella alla sinistra Ok, vado Ok E iniziamo a creare Una piattaforma Quindi per ora inizia a creare una piattaforma Proprio così, dritti e basta? Ok Sì, 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 sì Deve essere una sorta di campo Oh, Fer è grandino Ma non esageriamo Ok Secondo me non c'è troppo bisogno di esagerare Allora cerco di seguire quello che stai facendo tu Per non andare troppo Ok Troppo esagerati Allora Secondo me Ehm Pochino più grande Andando sempre verso qui Ok Ok Tipo questa è la lunghezza massima Adesso tappiamo tutto Ok 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 Perfetto Sì, 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 sì Ok Quindi così Esatto Tappa tutto lì E secondo me va bene A questo punto Inizio a mettere le trappole Devi mettere anche tu le tue Quindi a scacchiera abbiamo detto Giusto? Esatto Cioè praticamente così Solo trappole in questo momento? Ok Assenta a non camminare sulle mie Allora così È un po' tosta Quindi ha un po' di paura Un po' di ansia Lo so Ok Tipo qua Ok Che figata fare queste cose Che figata fare queste cose Ok 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 io le ho finite Steph Mi rimangono solo i bouncer Perfetto Allora All'incirca ci siamo Ho fatto siccome un po' di casino Un po' disordinata Ma va bene Fa ridere Sono stra in vantaggio Perché ne ho di più Eh ovviamente Oh mamma mia Non ci avevo pensato Che in effetti Poi ci dovevamo sfidare Con ognuno i propri materiali Neanche io ci avevo pensato Metto anche i bouncer No adesso ti spiego Ma ci sono le tue trappole? Sì Sono tutte da quella parte Da quale? Quella Ma Non lo so Io le vedo tutte blu comunque È quello che dico io Cioè in effetti Provo Ho tanto un chug chug Questa Questa è tua? Sì Ok Ok Quindi hanno fatto un problema visivo Dovamo fixarla sta cosa Può essere problematica Ma vabbè Alla fine Tutto ricoperto da tue trappole E le mie Sono tipo Dieci da una parte Le avrei dovute mettere più spazze Sì Non ci ho pensato Te la sei giocata un po' male Perché ma stavo pensando Di riempire Per quello volevo mettere i bouncer Perché poi tu magari Cadi da questa parte In un bouncer Che ti spinge Nelle mie trappole Beh ma Adesso noi praticamente Stiamo tappando così Vedi questi muri che sto facendo Tappi l'arena Ok E poi mettiamo i bouncer In un po' di lati In modo tale che appunto Vieni spinto un po' ovunque Eccetera eccetera Capito? Sì Granata di impulso Ne hai trovata alla fine? No Nienche una? No Ma che sfiga E che ti devo dire Stef? Che sfiga incredibile Allora tappiamo Ok Ma che stiamo a fa? Ma non lo so Fere Ma che te devo dire? Allora questa dovrebbe essere mia Quasi improvvisa Io ho la paura di passare sulle tue Ma non puoi Sono tutte da sta parte Eh appunto Adesso ci arrivo Per villare Non le schivo a prescindere Guarda così Non si sbaglia E si schivano Ok Abbiamo fatto? Quasi Finisci tu che ho paura Che c'è roba tua Ci credo Allora Eh tipo No Fere Ma era tua Fere Che è successo? Sono morta Cavolo Vabbè Tanto puoi tornare in vita E scendere esattamente dove sono io Ok Ok Ma non lo so Quelle erano mie Cioè Io sono quasi sicura Che una lì giù fosse Ormai non lo sappiamo più Quelle sono tue e mie Non lo so Ah ok Quindi sono anche qua Molto vicino Però ho perso tutto Eh no È tutto lì per terra Ah ok Aiuto Stavo per fare una scemenza Con la sale Dove erano la nostra base Eccola Ok Arrivando Com'è dall'alto? Figo? Molto Molto bello Sì Cioè raga Abbiamo creato Una roba del genere In due In pochissimo tempo Con un botto di trappole Di bouncer Questa è una vera arena da guerra Ok allora Adesso metti bouncer E fai tipo un muro Sì uno no Come ho fatto io Scusa era tutto mio Tutto allutato Con un sacco di tempo Stef Non voglio perdere Il mio equipaggiamento I miei proiettili Tutte le mie cose Ok Ok ci sono Ci sei? I bouncer mi ha detto Quindi dove li devo mettere E ognuno Fai in quel muro Che rimane tutto vuoto Uno sì uno no Quindi esattamente Ma non ne ho così tanti Parti da quello No no da quello dove eri Da quello dove eri Sì e poi vai verso sinistra Ok Ok Quindi Vai Esatto Bravissima Fammi schivare tutto Per sicurezza Ok Allora io ne metto Raga faccio anche una cosa va Ne mettiamo Ma ne avanzano due Ok vedi un po' dove metterli Hai visto cosa sto aggiungendo? E vabbè Strabesso Questo sì che poi è un parco giochi Almeno è degno del sonoro Esatto 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 Quello era l'obiettivo Stalmente degno del sonoro Ok allora Ci sei? Aspetta Ne voglio mettere Uno anche se come ci sta lì E anche uno dall'altra parte Perché secondo me lì c'è troppo spazio Tra uno e l'altro E ci sta Così almeno lì Stef non inizierai a volare Non morirò pure tu Ti prego Ok Fatto Ho avuto paura Fatto Allora la prima sfida è Prendi un Bonser totalmente a caso E vola E vedi se ti prende una trappola Nemica Ok Vai Ti prego no Oh 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 Attacca a me Io sono pronta col fucile a pompa Perché se sto per morire Ti sparo in testa Uh L'hai vista? Sì che l'ho vista Ok Ok Uh È tua È tua È tua Porca miseria Porca miseria Allora Vieni qua Ok Ce la teniamo Addosso entrambi Ok Ok Pronta A fare cosa? Aspetta 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 Dira un Bonser qua Aia Io l'ho appena schivata Per fortuna Porca miseria Sono rimasta immobile Ma per fortuna sono capitata In un posto In cui la tua trappola non c'è Bellissimo Mi curo un attimo Aia che male Ok Adesso Pietro Che fortuna hai? Si sono scattate tutte attorno a me Sotto un'ansia Terribile Steph Che fortuna Allora Devi andare esattamente a 150 di vita Dove cavolo stai saltando? In giro Ok No 98 Sai che forse muoio Perché è 98 Mi dispiace Mi sto anche refullando Steph Vabbè Si riesce a prendere un Bouncer Mentre si scende? Non lo so Vediamo È tost Perché il posto Sì È stretto In mezzo alle sue trappole Che paura Guarda che fortuna Che c'hai Oh io non faccio nulla Neanche lo muovo Cioè Lascio andare il personaggio Dove dovrebbe cadere Quindi è semplicemente Forse una facciata Ok Cioè ti ha assurato un'altra trappola Vediamo C'è Aiuto Erano mie Per fortuna Stessa cosa per me Oh mamma mia Ok Di nuovo Pim Questa volta schiatto Me lo sento Questa volta schiatto Me lo sento Ah Questa mi ha preso Non c'era il Bouncer raga A me una ha preso Steph Io mi sa Che sono sceso in un punto Senza Bouncer Sì vedi Non c'era Non so perché Pensavo ci fosse Allora Dove cavolo sei? Ah vabbè Non è difficile da vedere Non è difficile Steph Lo vedi tranquillamente Guarda quanto cavolo è gigante È bello visto dall'alto Guardalo bene Che figo Bellissimo 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 Quindi raga Allora Piccolo showcase Per farvi vedere appunto Ovviamente Cosa tutto si può fare Questa è una roba che abbiamo fatto Pensate In una quindicina di minuti Soltanto in due E neanche in quattro E senza neanche pensare A chissà quell'idea Giusto per farvi vedere Un pochettino Il potere di questa modalità Dopoiché potete immaginare Cosa tutto si può fare Cioè hai tutte le libertà Esatto L'unico limite Steph È la tua fantasia Quindi Che fortuna Mettila Che fortuna Stavo parlando per l'altro Oh Oh Non mi avrai mai Non ci credo Non mi avrai mai No Tre volte è rimbalzato È stato bellissimo Non finivo più Bellissimo In ogni caso raga Quindi ci fermiamo così Proponete nei commenti appunto Cose che dobbiamo fare In questa modalità Registreremo un botto di video In questi giorni Su questa modalità Perché è davvero fantastica Qua sotto compariranno Altri video Iscrivetevi al canale E campanellina E ci vediamo in un prossimo video Ciao ciao